musica questa serata in realtà è stata organizzata nell'ambito del Sound Makers Festival e il loro concerto finale e allo stesso tempo però è un momento molto importante emotivamente per noi di Lecce 2019 è un giorno veramente pieno di emozioni perché questa sera consegneremo il nostro secondo dossier di candidatura al sindaco affinché lunedì lo porti a Roma tosala, tosala, tosala tosala, 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 tosala. tosala, tosala. tosala. Oggi di fatto consegniamo alla città il beatbook pronto per la partenza lunedì mattina a Roma è un programma particolarmente ambizioso, interessante che vede relazioni nazionali e internazionali e di oggi la notizia che ha vinto anche la città di Plodiv con la quale noi comunque abbiamo nei precedenti mesi costruito anche dei rapporti e delle relazioni internazionali è un programma strutturato su anche la capacità di reperire risorse finanziarie con la regione Puglia e con i programmi a gestione diretta europea esprime una capacità di relazionare le utopie in realtà grazie alla creazione di otto programmi operativi che guardano sin d'ora la capacità di realizzare effettivamente una serie di attività per la città Paolo, vuoi dire qualcosa oppure vuoi vedere il dossier prima? This is very emotional for me I never liked to give this book before I asked a friend to help me Because this book is about our future Perché questo libro, questo dossier, parlare del suo futuro Domitilla Domitilla, dà il libro al sindaco Grazie, grazie veramente In questi sette anni da sindaco ho attraversato personalmente come uomo tantissimi momenti Qualcuno brutto, molti belli ed entusiasmanti Questo è uno dei più belli ed entusiasmanti Siamo in finale Vogliamo il titolo E lavoreremo sodo per ottenerlo Il dossier inoltre è un grande segreto per ora Perché chiaramente ci troviamo in una competizione Quindi per il momento non parliamo della bellezza del dossier in pubblico Ma siamo contenti che sia finito E di fronte a noi ci troviamo comunque tanto lavoro da fare Perché il 6 ottobre la giuria sarà qui E abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti Dell'aiuto di tutti Perché Lecce 2019 vuole voi Una sera io passai delle patule E in tisilerano più le cantare E in tisilerano più le cantare E in tisilerano più le cantano 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 più le cant È un simbolo ma di fatto è ciò che è avvenuto nel senso che in questi mesi la città, la comunità dei leccesi e dei salentini ha partecipato attivamente alla realizzazione di questo che rappresenta di fatto il progetto della Lecce e del Salento del futuro. Io sono molto soddisfatto per quello che è stato fatto, un ringraziamento particolare va a tutte le donne, gli uomini dello staff che sono riusciti a mettere in piedi un processo di grandissimo coinvolgimento. Io sono molto soddisfatto per quello che è stato fatto, un ringraziamento particolare va a tutte le donne, gli uomini di loro, Io sono molto soddisfatto per quello che è stato fatto, un ringraziamento particolare va a tutte le donne, gli uomini di loro, Io sono molto soddisfatto!